Bentrovati, bentrovati a un nuovo videotutorial firmato fabiambrosi.it. Quest'oggi parliamo della versione numero 14.6 di Adobe Premiere Pro, uscita l'altro giorno, lo scorso 17 novembre 2020. Ogni tanto Adobe rilascia nuove versioni per correggere bug, aggiungere nuove funzionalità o semplicemente supportare nuovi codec ai propri prodotti. La versione di Premiere 14.6 non aggiunge grandi strumenti o corregge particolari bug, ma una funzione molto interessante è stata introdotta. Parlo della funzione esportazione rapida. Di cosa si tratta? Beh, come dice la Pro la stessa, esportazione rapida è uno strumento che ci permette di esportare la nostra timeline o parte di essa in pochissimo tempo, senza preoccuparci troppo di codec, impostazioni, bitrate, framerate, bla 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 bla. Durante il corso introduttivo a Premiere Pro vi ho insegnato che premendo i tasti di scelta rapida Ctrl M potete accedere al pannello per l'export. Sapete tutti come funziona, sapete che potete impostare il vostro codec, dare informazioni importanti come la risoluzione, bitrate, tipo di codifica eccetera eccetera. Ma a volte si ha l'esigenza molto semplice di esportare il materiale magari per essere visionato dal cliente prima di procedere con l'export definitivo. Oppure vogliamo esportare la nostra timeline semplicemente per condividerla sui social, quindi non abbiamo particolari esigenze di export. Bene, in questo caso la funzione esportazione rapida è ciò che fa al caso nostro. Cliccando su questo bottoncino che appare in alto a destra, ribadisco dovete avere la versione 14.6 per poter utilizzare questo nuovo strumento, dicevo utilizzando questo bottone vi apparirà la finestra per l'esportazione rapida. Come vedete tutto è ridotto al minimo, abbiamo la possibilità sì di scegliere la cartella di export, il nome, possiamo decidere il nome e dare al file che stiamo esportando. Possiamo decidere la qualità del video che stiamo esportando in questo momento, possiamo lavorare ad un bitrate elevato, quindi high bitrate, possiamo lavorare a un bitrate basso utilizzando ovviamente le impostazioni del file sorgente. Oppure possiamo scegliere direttamente la risoluzione a cui poter esportare il nostro video, scegliendo tra il 4K, l'HD, il 720p e il più piccolino, il 480p standard definition. Se dovete esportare del materiale per farlo vedere al vostro cliente è inutile esportare un file di grandi dimensioni per far vedere i tagli, va benissimo un export a bassa risoluzione. Quindi ipotizziamo di voler esportare una clip in 480p standard definition wide, clicchiamo, abbiamo qui una sintesi delle impostazioni predefinite che Adobe ha scelto per noi, il codec H264, 854x480 alla risoluzione, 25 fotogrammi al secondo, 4 megabit per quanto riguarda la velocità di bitrate, la durata ovviamente del nostro export e l'audio che sarà in stereo. Non dobbiamo impostare nient'altro, basterà cliccare su esporta e automaticamente Premiere esporterà il file per noi, senza perdere troppo tempo e mille impostazioni. Niente di più, niente di meno, aspettiamo la prossima release di Premiere per scoprire se altri bug o altre funzioni sono state aggiunte a questo fantastico software. Ricordo che c'è il corso introduttivo per chi non ha mai usato Premiere e vuole imparare a montare, lo trovate su questo canale YouTube, iscrivetevi se vi va e accendete le notifiche per non perdere i prossimi video, mettete un like e cercatemi su Facebook, la pagina da cliccare come sempre è Fabio Ambrosi. Grazie, al prossimo video tutorial, ciao!